buongiorno a tutti sono molto felice di essere qui e di poter parlare con voi dovrei parlarvi, vi parlerò, vi dirò qualche cosa sul rapporto fra le donne e la Costituzione che è una cosa molto importante naturalmente per noi donne e per tutti e vorrei parlare di quello che c'è, le discriminazioni che ancora c'erano nella Costituzione nei confronti del genere femminile e vedere un momento quello che da allora è cambiato e come siamo, in che situazione siamo adesso allora io partirei dall'articolo 3 della Costituzione, direi che è inevitabile l'articolo 3 della Costituzione dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale sono uguali davanti alla legge senza distinzione, dice la Costituzione di sesso, di razza, di lingue, di religione e poi naturalmente di condizioni politiche personali e personali e sociali il comma 2 esplente dice che è compito della Repubblica rimuovere questi ostacoli fra i quali gli ostacoli legati quindi a quello che la Costituzione chiama sesso e in modi abituati è chiamato genere allora, diciamo questo intanto nella Costituzione, la Costituzione sente il bisogno di parlare di queste discriminazioni di genere è consapevole naturalmente, lo sanno i nostri costituenti scrivono nel 1947 voglio dire il fascismo aveva aggravato una situazione già pesante prima per le donne non fermiamoci sul fascismo in particolare ma le discriminazioni erano particolarmente pesanti e a distanza di 70 anni e beh, insomma, bisogna dire che bisogna ripensare a tutto questo perché in realtà anche se la Costituzione dice che queste discriminazioni vanno eliminate beh, questo non succede per moltissimo tempo le discriminazioni sono rimaste pesantissime fino a quelli che ai ragazzi sembrano pochi ma sono pochi invece sono pochi decenni di anni fa allora, le discriminazioni più pesanti riguardavano due settori il diritto di famiglia e il diritto penale nel diritto di famiglia, e vi dico una cosa solamente pensate che ancora negli anni 60 c'è stata una riforma del diritto di famiglia lì, molte cose, molte cose molto importanti beh, prima fino al 75 nel codice era scritto che la moglie è obbligata a seguire il marito ovunque e questa decide di fissare la sua residenza rendetevi conto semplicemente di questo non si concepiva neppure che una donna lavorasse perché potesse essere autonoma, avere una sua indipendenza niente di tutto questo questo rimane fino al 75 così come fino al 75 rimane la patria potestà oggi non c'è più, i giovani non lo sanno neanche ma la patria potestà, tra l'altro il marito la esercitava, il capo famiglia la esercitava a volte che sui figli anche sulla moglie oggi non si chiama neanche più pat, potestà si chiama responsabilità ed aspetta ai coniugi assieme quindi per arrivare a queste cose che sono diciamo elementari sembrano noi elementari quanti anni ci sono voluti dal 47 al 75 ma la cosa più impressionante è il diritto e il codice penale allora il codice penale che risale a Rocco è un vecchio codice fascista peraltro di un bravissimo giurista ma ovviamente diceva pensate che nel codice penale c'è stato un articolo che è stato progetto solamente nel 69 che prevedeva un reato che si chiamava adulterio allora il problema era questo che l'adulterio era un reato che commettevano solamente le donne gli uomini erano puniti solo se tenevano una concubina in modo particolarmente offensivo per la moglie pensate immaginatevi semplicemente questo immaginatevi come potevano essere i rapporti pensate che c'era l'omicidio per causa d'onore l'omicidio per causa d'onore sono tutte cose che sono abrogate nel 69 70 in quegli anni prima non se ne parlava proprio l'omicidio per causa d'onore era quella cosa tra l'altro che prevedeva che il codice che uccideva ma il codice che uccideva era sempre il marito molto raramente la moglie succedeva l'altro coniuge sorpreso in flagranza di adulterio ma questo potere era esteso anche ad altri maschi della famiglia su altre donne come tutto questo offendeva l'onore familiare invece di essere punito come un normale omicidio veniva punito con una pena mia arriva appena di solito si è accorto in due o tre anni l'omicidio per causa d'onore anche questo è troppo tempo che è stato cancellato poi su questo vorrei tornare anzi non torno ne parlo subito l'omicidio per causa d'onore è una cosa che sta tornando ecco che la cosa che mi fa impressione è questo insieme a allora che non posso fermarmi su tutti i cambiamenti che ci sono stati vengono segnati due importantissime l'abolizione dell'adulterio l'omicidio per causa d'onore sembrava che con questo le cose fossero cambiate che forse i giovani non se ne rendono conto soprattutto le giovani donne alle quali mi fa piacere spero che ce ne siano sentire questa cosa hanno l'idea che queste cose ormai sono scontate le abbiamo conquistate noi e anche gli uomini non da sole ma il femminismo è stato molto importante in questo e che questi diritti che ormai abbiamo ecco possiamo anche dire più genericamente abbiamo ormai finalmente raggiunto la parità formale noi uomini e donne quella sostanziale è un discorso diverso ma quella formale l'abbiamo allora le giovani donne non sanno che fatica è costata come è stato difficile cancellare tutto questo e non si rendono conto che le cose possono cambiare secondo me stanno cambiando stanno tornando indietro perché vedete purtroppo la storia non è un problema non va sempre in avanti non va verso un progresso la storia può tornare indietro e allora come non essere colpiti adesso di fronte a un fenomeno mi limito a uno è una parola che io non amo il femminicidio non so perché comunque esprime molto bene il problema lo strage di donne che quotidianamente accade leggiamo sui giornali donne che vengono uccide da uomini allora attenzione qui siamo addirittura oltre l'omicidio per causa d'onore perché questi uomini che oggi uccidono le donne quotidianamente le uccidono non solo se questi li tradiscono ma semplicemente ma se li abbandonano non si vengono abbandonati cioè c'è una regressione a una perché 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 cosa succede anche gli uomini sono in crisi questo è un mondo molto difficile anche molti uomini non hanno lavoro ma già non è solamente adesso ma insomma da alcuni anni ormai i rapporti con le donne sono cambiati la vita eccetera eccetera allora di fronte alle crisi che cosa scatta negli uomini scatta un ritorno al concetto proprietario della donna e questo mi spiace dirle è una cosa che è difficile da cancellare perché la dobbiamo ai greci che io amo tanto ma sono loro che hanno teorizzato questo non ho il tempo di raccontarvelo ma è così e poi Aristotele ha addirittura proprio teorizzato che è anche giusto che sia così perché noi siamo inferiori noi donne agli uomini perché non abbiamo il logo cioè l'intelligenza che hanno loro va bene ma è molto difficile questa cosa c'è di fondo 2500 3000 anni che è così e allora nei momenti di crisi cosa succede? succede che negli uomini scatta di nuovo questo problema la donna rimane l'unica cosa l'associazione proprietaria di società l'unica cosa che gli dà sicurezza questo è qualcosa appunto su quale mi fa piacere della quale mi fa piacere parlare anche se mi dispiace doverne parlare perché penso che sia bene che le ragazze di oggi le giovani che non conoscono la storia che io ho cercato in due parole di tracciare dell'emancipazione femminile ecco le donne di oggi non si rendono conto non si rendono conto bisogna tenere la guardia molto alta sempre grazie grazie a tutti grazie a tutti